Buongiorno a Giannelli, sennò c'è la nostra bella Lauretta che vi farà ascoltare adesso un momento particolare perché adesso ce ne andiamo di nuovo in quel momento dedicato ai film e ora lo faccio logo emozionare perché adesso colpirò tutte le vostre giovinezze, tutti i vostri ricordi ho portato questa canzone perché questa canzone poi tra l'altro mi ha dato grande fortuna sono stato l'anno scorso a cantare, pensate al Festival Internazionale del Cinema Malatea dove lì c'era anche la bellissima Sofia Lauren e io arrivai un attimo prima a cantare questa bellissima canzone ho avuto il piacere di essere filmato e mandato a Rai 1 in un programma della scorsa estate era proprio agosto e quindi questa canzone è nel mio cuore ma spero possa essere anche nel vostro quindi accogliamo con un forte applauso la bellissima Lauren, che non mi da ancora Angelo, arriverà e praticamente questa canzone si chiama Nuovo Cinema Paradiso di Morricone per voi, ci sarà questo momento molto bello con Lauren al pianoforte e le immagini con il film e quindi i vostri ricordi su questa cara sindaco, su questa terrazza di fondi e facciamo una cosa proprio addocco, non è solo tenore ma è anche spettacolo e cinema quindi per voi Lauren con Nuovo Cinema Paradiso va, signora Lucia Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.